Parla tifoso partenopeo. Benvenuti a tutti sul canale Notizie di Napoli. Dove la passione per la nostra amata Napoli non si ferma mai. Oggi affronteremo un argomento che sta muovendo il mercato dei trasferimenti e suscitando scalpore tra i giganti europei. Parliamo di un centrocampista che è stato una parte fondamentale del progetto di tecnico Antonio Conte e che, ancora una volta, ha catturato l'attenzione di uno dei più grandi club del mondo, il Barcellona. Sì, i Blaugrana tengono d'occhio la nostra stella slovacca, ma per il Napoli è Conte lo botca incedibile. Immergiamoci in questa storia e analizziamo perché il Barcellona ha così tanto interesse per il giocatore, cosa rappresenta per il Napoli e come il club sta reagendo a questo assalto dei catalani. Quindi preparatevi, lasciate un like, iscrivetevi al canale e andiamo dritti al punto. Per cominciare, tifosi, capiamo da dove nasce tutto l'interesse del Barcellona per Stanislav Lobotka. Lo slovacco è stato uno dei nomi più costanti nella rosa del Napoli e la sua importanza va oltre le statistiche. È il cuore del centrocampo, responsabile di dettare il ritmo del gioco, organizzare le transizioni difensive e offensive e garantire la fluidità di cui il Napoli ha bisogno per giocare, ad alti livelli. Non è una novità che i grandi club guardino a Lobotka, ma il Barcellona ha un rapporto speciale con il giocatore. Ricordando che, prima di arrivare al Napoli, Lobotka ha giocato nel Celta Vigo, nella Liga, dove ha iniziato ad attirare l'attenzione dei colossi spagnoli. Il Barcellona, da quel momento, si era già interessato al suo calcio, ma a vincere la gara è stata la SSC Napoli, che lo ha ingaggiato nel 2020. Da allora Lobotka si è affermato come uno dei giocatori chiave nel progetto del club, soprattutto sotto la guida di Antonio Conte, che considera il centrocampista essenziale per lo stile di gioco che sta implementando nella squadra. E questo è il punto più importante. Tifosi, Lobotka è incedibile. Sia Antonio Conte che il presidente Aurelio de Laurenti sono stati categorici. Lo Slovacco è fondamentale nel progetto del Napoli. Cederlo ora non è nei piani del club e tanto meno nella visione di Conte. L'abbraccio tra allenatore e giocatore dopo la partita contro il Como dice tutto. Per Conte, Lobotka rappresenta il nuovo Napoli, una squadra ambiziosa che gioca con intensità e cerca di dominare gli avversari a centrocampo. Sappiamo che il Barcellona è alla ricerca di rinforzi per il settore del centrocampo, soprattutto dopo l'addio di big come Sergio Buschezze e la necessità di trovare qualcuno che possa dare. Consistenza e dinamismo al gioco della squadra catalana. Ed è qui che entra in gioco Lobotka. Il Barcellona vede nello Slovacco un giocatore che non solo può sostituire questi pezzi perduti, ma offre anche qualcosa di nuovo, un centrocampista moderno, capace di giocare sia nella costruzione. Del gioco che in marcatura. Per De Laurentiis e Conte, però, questo interesse non cambia affatto la decisione del club. Lobotka resta al Napoli. Ora, tifosi, parliamo dell'impatto che la permanenza di Lobotka potrebbe avere per il Napoli in questa stagione. Sappiamo che, con Conte alla guida, il Napoli è in una fase di rinnovamento e ristrutturazione. La squadra ha l'ambizione di restare competitiva in Serie A e nelle competizioni europee e per riuscirci è fondamentale mantenere giocatori di alto livello come Lobotka. Lo Slovacco è visto come un leader in campo, qualcuno che, oltre alla qualità tecnica, porta equilibrio alla squadra e sicurezza nei momenti di pressione. Ma ovviamente non possiamo ignorare che l'interesse del Barcellona potrebbe intensificarsi nelle prossime finestre di mercato. Come sappiamo, quando un colosso come il Barca decide di volere un giocatore, solitamente torna proponendo compensi astronomici. Il Napoli, però, non è un club che si piega facilmente a questi attacchi. Aurelio De Laurenti, se noto per la sua fermezza nelle trattative e, se dipendesse da lui, Lobotka continuerà a essere un giocatore centrale del Napoli per molte stagioni a venire. La decisione di mantenere Lobotka riflette anche la visione del club per il futuro. Il Napoli non vuole essere visto come un club che vende le sue stelle non appena qualche gigante europeo bussa alla porta. Al contrario, il club vuole consolidarsi come potenza del calcio italiano ed europeo e, per farlo, ha bisogno di mantenere i suoi talenti principali. Il rinnovamento della squadra è in corso e giocatori come Lobotka sono cruciali per garantire questo successo continuo. Inoltre, tifosi, non possiamo dimenticare che Lobotka ha ancora tanto da offrire al Napoli. È all'apice della sua carriera, gioca il suo miglior calcio e può ancora migliorare ulteriormente sotto la guida di Antonio Conte. L'allenatore italiano è noto per ottenere il massimo dai suoi giocatori e Lobotka non è diverso. Gara dopo partita vediamo come lo Slovacco diventi sempre più completo, sia in fase difensiva che nella costruzione delle giocate offensive. Ecco perché la decisione di mantenerlo nel club ha perfettamente senso. E a proposito di Antonio Conte, l'allenatore è stato molto chiaro riguardo al suo progetto per il Napoli. Vuole costruire una squadra competitiva a tutti i livelli, capace di competere per i titoli e restare tra le migliori della Serie A e della Champions League. Per fare questo ha bisogno di giocatori come Lobotka, che comprendano la sua filosofia di gioco e mettano in pratica le sue idee in campo. Conte non è un allenatore che si aggrappa ai big solo per la loro fama. Apprezza i giocatori che danno risultati e che si impegnano per il successo della squadra. Adesso pensiamo ad uno scenario ipotetico. Cosa succederebbe se il Barcellona decidesse di fare un'offerta irrinunciabile per Lobotka? Cosa farebbe il Napoli? Questa è una domanda che si stanno ponendo molti fan. Certo, c'è sempre la possibilità che il club catalano arrivi con una proposta finanziaria così grande che sarà difficile. Per qualsiasi club dire di no. Ma il Napoli di De Laurentiis ha già dimostrato di non essere disposto a rinunciare senza combattere ai suoi giocatori più importanti. E, nel caso di Lobotka, sembra che questa battaglia sia già stata vinta dal Napoli, almeno per ora. Un altro punto importante da considerare è quanto si sente bene Lobotka giocando per il Napoli. Il giocatore ha già dichiarato in diverse interviste di essere felice nel club e di sentirsi apprezzato sia dai tifosi che dallo staff tecnico. Questo conta molto quando un giocatore riceve offerte da altri club. Dopo tutto, trovarsi in un ambiente in cui ti senti a tuo agio e importante può superare un'offerta finanziaria vantaggiosa. E voi, tifosi, cosa ne pensi di questa situazione? Crede che il Barcellona possa prendere Lobotka dal Napoli? Oppure è sicuro che De Laurentiis e Conte riescano a mantenere la nostra stella al club? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, vogliamo sapere cosa ne pensate. Bene tifosi, oggi siamo giunti alla fine del nostro video ed è innegabile che la situazione di Stanislav Lobotka stia mettendo in allerta a molti tifosi del Napoli. Il tentativo del Barcellona di sedurre il nostro centrocampista continuerà sicuramente a essere oggetto di speculazioni nei prossimi mesi, ma la fermezza di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis nel... Trattenerlo è una chiara dimostrazione che il Napoli non è disposto ad aprirsi la mano dei suoi più grandi gioielli. Il progetto del club è chiaro, mantenere una squadra competitiva, che possa continuare a competere per titoli importanti, e giocatori come Lobotka sono tasselli essenziali in questo percorso. L'affetto di Lobotka per il club, unito alla fiducia che riceve dallo staff tecnico e dai tifosi, rendono la sua permanenza ancora più probabile. Tuttavia, come sappiamo, il calcio è dinamico e le trattative possono cambiare rapidamente. L'importante, tifosi, è che il Napoli si posiziona sempre più come un club che lotta per trattenere i suoi migliori talenti, e questo è fondamentale per costruire basi solide verso il successo. Adesso lascio a voi la domanda, cosa ne pensate di tutto questo interesse del Barcellona per Lobotka? Riuscirà il Napoli a resistere agli attacchi dei giganti europei? E cos'altro potrà offrirci lo slovacco nelle prossime stagioni? Commenta qui sotto, condividi le tue opinioni. Forza Napoli, sempre!